Buongiorno a tutti, come probabilmente molti di voi avranno visto, qualche giorno fa ho partecipato a una presentazione di un romanzo storico incentrato sulla fine misteriosa, sulla morte misteriosa di Ugo Cavallero. È stata un'occasione molto interessante, molto stuzzicante anche per andare a fare una sorta di parabola romanzata, ovviamente, ma della vita, della vita tumultuosa, della vita scoppiettante, potremmo dire, del marescialo d'Italia Ugo Cavallero che ci ha sempre offerto degli approfonditi spunti di riflessione. E proprio per questo motivo torniamo con, almeno da parte mia, grande entusiasmo nell'andare a leggere e commentare il suo diario, un percorso che ormai ci accompagna da molti mesi, che ci ha ormai, in qualche modo, anche accompagnato questo canale alternandolo con altre letture che possono essere legate al 1943. Ultimamente ho fatto molto sull'ottantesimo del 1943, ma anche su altri argomenti, temi legati ovviamente ai film, alle recensioni. In questi ultimi giorni ne ho fatte diverse, proprio per anche rispondere a una certa attualità del cinema italiano, internazionale, sempre molto dinamico, anche su temi storici. Ebbene, siamo arrivati quindi al novembre del 1941, un mese che ci offrirà, vedremo anche qui, numerosi spunti di riflessione, soprattutto nelle relazioni con i tedeschi. E questo è un elemento sempre più importante, perché ovviamente non riusciamo a capire il 1943 se non abbiamo ben chiare le dinamiche di contrapposizione, ma anche di comprensione che ci possono essere tra le due sponde, i due crinali del Brennero, a proposito di tanti temi legati alla ideologia, alla strategia, agli obiettivi di guerra, che poi sono quelli che in qualche modo vanno a determinare la crisi di quello che sarà il 1943, prima che per il fascismo, per l'alleanza con la Germania. Un'alleanza che è già incrinata da un bel po'. Ecco quindi novembre 1941, nel primo novembre non è scritto niente, probabilmente ha fatto festa anche Cavallero. Due novembre, comunico all'ammiraglio Riccardi e al generale Roatta che un nuovo corpo aereo tedesco, CAT, già promesso dal Führer, è in arrivo. E questo ci è propedeutico, proprio perché sappiamo come nei mesi invernali, o almeno nei mesi freddi, molte delle formazioni aeree della Luftwaffe passavano dal, e questo sarà nel 1941 ma anche nel 1942, dal fronte russo, particolarmente rigido per tanti aspetti, e quindi arrivavano in Medellano, quindi potenzialmente vediamo come i rifornimenti dei mesi invernali-primaverili sono particolarmente favorevoli di massima all'asse, mentre il periodo estivo-autunnale è più di favore per gli alleati, proprio per questo motivo, per un bilanciamento dei fronti, che ovviamente va ad equilibrare, che le truppe, non dico che gli aerei sono sempre gli stessi, però diciamo che l'equilibrio ovviamente va a pesare quando da una parte e quando dall'altra, sempre però consigliando che il Mediterraneo è per i tedeschi un fronte secondario. Ricevo l'eccellenza Roatta, argomenti, proposta a Galbiati di anticipare la chiamata delle classi, qui c'è anche il rapporto tra esercito e milizia, un tema sempre molto caldo, poiché non concordo necessità di evitare gli edre a Galbiati sforzi della milizia e possibilità di chiamarli poi nell'esercito come sergenti. Roatta è contrario perché non sono stati fatti i sergenti quelli dei corsi precedenti della milizia. Quindi nasce, a mio modesto avviso, un problema di preparazione, che la preparazione della milizia non sempre è all'altezza di quello che può essere uno standard, ma Roatta ne fa una questione di equità, dice visto che quelli di prima non li avevamo promossi, perché dovremmo promuovere questi? Diciamo, è inedito da parte Roatta un concetto così di giustizia sociale, potremmo dire. 3 novembre. Mi rego a Canferere Golduce, il quale approva il testo della lettera per il Führer. Presiedo la riunione tenuta nel pomeriggio presso il Comando Supremo. Un'azione nostra di sbarco in Corsica è da attuarsi soltanto se vi saremo assolutamente costretti, tenuto conto delle ripercussioni che tale nostra azione avrebbe inevitabilmente sulla situazione del Nord Africa francese. E sappiamo che questo problema verrà posticipato di 12 mesi che se ne parlerà nel novembre del 1942, nell'immediato successivamente all'operazione Torce, con la presa di possesso da parte degli americani anglo nel Maghreb. 4 novembre. Ricevo il comandante Girosi. Assiste al colloquio il colonnello Gallo. Argomenti, esami delle rotte, orari, attacchi di giorno sono molto difficili e costerebbero troppo agli inglesi, modo di intervenire dei ricognitori assiluranti e di organizzare rete di avvistamento. Telefono all'eccellenza Riccardi. Gli comunico che il problema della nafta è stato risolto con una maggiore assegnazione dalla Germania. Così avremo circa 66.000 tonnellate per novembre ed altrettante in dicembre. Quindi diciamo che, a detta di Cavallero, la situazione dei carburanti per la Marina è in via di miglioramento. Ricevo l'eccellenza Riccardi. Quindi prima gli telefona, prima parla con Girosi. Poi telefona con Riccardi e poi lo riceve. Argomenti, autonomia degli aerosiluranti e dei caccia. Esame delle varie rotte. Riccardi, conviene che i rischi si equivalgono ma a cambiare rimane il vantaggio di fare qualche cosa diverso. La novità forse ci aiuta. Ricevo i generali Forrintelen e Rommel. Rommel espone la situazione in Africa. Sul fronte di Solum nessuna modificazione importante. Le fortificazioni sono molto efficienti. Il traffico con Bardia o Bardia è possibile perché il nemico non può battere bene il porto con l'azione aerea. L'addestramento della Pavia, a sud delle posizioni che fanno fronte a Tobruk, è molto soddisfacente e gli uomini si entusiasmano. I preparativi per attaccare Tobruk saranno ultimati entro il 15 novembre. Ma l'attacco non si farà prima del 20 né dopo il 4 per tener conto della luna. Le modalità dell'azione sarebbero le seguenti. Sappiamo che su Tobruk c'è un grosso problema. La sera precedente avrebbe luogo un'azione preliminare della Brescia per ingannare il nemico sulla direzione dell'attacco. È previsto l'impiego di molta artiglieria e di truppa d'assalto. Sarebbe opportuno impiegare la nebbia ma il generale Gambara dice che non è consentito. Mi assumo la responsabilità di dare l'autorizzazione. Rommel confida che il nemico che si attende a Dovest e da sud del nostro attacco e ha schierato le sue artiglierie a sud-ovest possa essere tratto in inganno dall'azione della Brescia che continuerà anche nel mattino del giorno dell'attacco giorno X. In qualche modo si cerca di fare un diversivo. All'alba di tale giorno quattro divisioni avanzeranno da sud-est verso Tobruk. Due divisioni italiane a sinistra e due divisioni tedesche a destra. Comandanti rispettivamente Navarrini e Cruvel. Prevede che l'azione non durerà più di 48 ore. Dopo le due divisioni corazzate torneranno indietro per parare un'eventuale contro-offensiva nemica. Chiedo a Rommel se è possibile un attacco aggirante a largo raggio da parte del nemico. Egli lo esclude perché l'avversario teme di esporre le sue retrovie al rischio di essere tagliate dalle divisioni italiane e tedesche. Prevede solo un'azione con poche forze contrastabili con l'impiego di aviazione. Quindi si va a definire un elemento molto di movimento che però prevede anche una possibile contro-offensiva nemica. Sappiamo che le cose andranno diversamente e che su Tobruk bisognerà un po' rinviare le cose. 5 novembre Dicevo l'Eccellenza Santoro dell'Aeronautica Argomento Situazione aviazione esistente in Sicilia L'unicità di comando è necessaria in Sicilia i tedeschi vi hanno maggiori forze però pur salvaguardando i nostri interessi è necessario dalle loro il comando. Ed è uno smacco non indifferente che in Sicilia le aeronautiche congiunte siano a capo dei tedeschi. Detto la dislocazione delle forze aeree le relative dipendenze e le modalità di cooperazione. E quindi vediamo un altro tassello che ci porta sempre a definire cavallero molto filo tedesco ma non è solo questo ovviamente. 6 novembre Ricevo il comandante Giroso argomenti compiti del maresciallo Kessering secondo il progetto Forrintelen mantenere la superiorità aerea nel Mediterraneo e il blocco di Malta il tutto in collaborazione con la Marina e l'aviazione italiana. Poi ci lamentiamo perché Kessering nel 1943 fa un po' come gli pare è perché già gli è stato concesso già da 41. 7 novembre Ricevo l'eccellenza Roatta argomenti marcia della Livorno progettata per i primi di dicembre marcia della Sforzesca ha fatto 175 km in 4 giorni arrivo del maresciallo Kessering dislocazione della contraere e il rimaneggiamento di esse in conseguenza dell'arrivo del corpo aereo tedesco Roatta propone di concentrare la difesa dell'Italia meridionale impiego proiettori a Napoli sospendere l'impiego fino a che non sono tutti concentrati circolare manca circa manca il nome circa l'impiego artiglieria e in particolare circa l'impiego anticarri osservazioni Roatta riguardo e divergenze opinioni Rommel manca costituzione nuove divisioni invio altre truppe in Russia per primavera con la somma gioia di messe esercitazione di sbarco verso fine mese ripresa di funzionamento dei battaglioni di istruzioni comando per l'Oxir un'armata un corpo d'armata comando unico Montenegro Croazia situazione in Croazia e in Croazia politica dei tedeschi nei Balcani e divergenze con la nostra ecco su questa frase una frase che chiude politica dei tedeschi nei Balcani e divergente con la nostra già ci si potrebbe parlare fino a Natale di quest'ultima riga però diciamo che sappiamo molto come nei Balcani la situazione anche delle geometrie variabili nelle alleanze tattiche sia un elemento di profondo contrasto e quanto lo sarà almeno fino all'estate del 43 cetnici ustascia partigiani titini tutti elementi che in qualche modo vanno a inserirsi all'interno di una alleanza molto traballante 8 novembre protezione diretta dei convogli i tedeschi non ne vogliono sapere ciò esclude la loro ingerenza sulle squadriglie dell'Asi Africa settentrione italiana forza tedesca che va in Sicilia 30.000 uomini sede del comando Kessering tenuta presente l'inopportunità di Roma si prendono in esame varie località sappiamo che poi sarà frascati a Forrintelen che mi ha annunziato il prossimo arrivo del maresciallo Kessering spiego che la nostra aeronautica è un'arma nascente e che umano abbia qualche atteggiamento di separatismo e di individualismo eccessivo necessario d'altra parte per dare gregari la fierezza di appartenervi un'arma nascente nata nel 23 vabbè il secondo corpo aereo tedesco si troverà fra breve a contatto con le formazioni italiane le quali però rimangono sotto il comando italiano le disposizioni relative alla ripartizione dei compiti saranno formulate d'intesa con il capo di stato maggiore dell'aeronautica Forrintelen mi dice che lo scopo della venuta del maresciallo Kessering è quello di dare al comando supremo un mezzo per la lotta nel Mediterraneo cioè una stampella faccio presente che abbiamo già definito le zone di azione noi ribadisco dobbiamo tutelare il nostro congegno gerarchico che risulta da una precisa disposizione di legge sulle attribuzioni del capo di stato maggiore generale e quindi per principio le proposte dovranno sempre essere fatte al comando supremo allo scopo di mantenere quell'unità di azione che va raggiunta a qualunque costo quindi sostanzialmente Cavallero butta dai pugni sul tavolo e dice qualsiasi cosa deve essere riferita da Kessering deve essere rivolta a me non ci devono essere delle interferenze perché solo io sono per legge il comandante supremo in quanto alla sede del marecello Kessering si conferma che sarà frascati e appunto lo abbiamo anche visto e sarà ahimè frascati località per Cavallero profondamente nefasta 9 novembre telefono a Santoro ordinando di tenere sotto bombardamento la valletta per tutta la giornata ricevo l'eccellenza Apricolo argomenti lampedusa necessità assoluta di inviare i mezzi progettati per poterla difendere azioni sulla valletta per la giornata di ieri danni riportati stanotte dal nostro convoglio condizione di salute dell'eccellenza Abbastico aumento dei proiettori a Tripoli Superasi il comando superiore Africa settentrionale preferisce l'invio e invio di materiali a quello di uomini richiesta di mezzi di trasporto a Fonpol quindi sempre elemento di qualità non quantità ma in realtà sarà diverso sappiamo prego 8 milioni di baionette prego Pricolo di intervenire lui necessità di eliminare le navi di superficie alla valletta Pricolo dice che basterebbe un gruppo di picchiatelli gli aerei quelli che vanno in picchiata schema di collaborazione col corpo aereo tedesco do visione a Pricolo del testo concretato ieri con Forrintelen e lo prego di preparare gli studi relativi agli sviluppi che ne derivano aggiungo che l'intervento di un terzo ente richiede qualche accorgimento Superaereo deve serrare di più i suoi contatti col comando supremo che finora non lo sono stati abbastanza e quindi qui già emerge come l'inserimento di un comando intermedio tedesco nell'aeronautica implica che i rapporti già soppicanti tra comando supremo e Superaereo sarebbe lo stato maggiore dell'aeronautica che però vanno ad essere diluiti a ricasco di Cavallero perché il capo maggiore dell'aeronautica è anche sottosegretario al ministro dell'aeronautica quindi con quel sempre doppio ruolo che in qualche modo scavalca Cavallero ma in queste circostanze dice no bisogna essere sempre più a ranghi serrati perché proprio perché il corpo aereo tedesco non può prescindere dal comando supremo italiano le comunicazioni devono passare sempre per il comando supremo italiano e quindi non ci può essere un'autonomia operativa dell'aeronautica senza controllo di Cavallero questo è un tentativo sappiamo che poi molte cose non cambieranno si passerà da Prigolo a Fouget con altri problemi aggiungo che l'intervento questo già l'ho letto occorre che Prigolo di sua iniziative non a domanda faccia vedere al comando supremo l'interno dell'aeronautica e tutto quello che costituisce la vita dell'arma quindi dice è Prigolo che deve venire da me non è che lo devo chiamare io è evidente che l'intesa diretta fra Kessering e Supercomando allontani un po' ho dovuto dare questa intesa per dare scioltezza a Kessering ma non intendo per questo di svincolare il superaereo dal comando supremo nel limite del quadro della sua competenza l'OBS voleva fare proposta alla marina ma mi sono opposto e ho chiesto che le proposte siano fatte al comando supremo quindi questo è sempre l'interferereo l'OBS è il comando sud dello stesso Kessering quindi c'è sempre un problema nella definizione delle geometrie variabili anche qui nel senso che i tedeschi si inseriscono in qualche modo voglio fare da Cuneo e Cavallero cerca sempre di approfittarne per dire no anzi se i tedeschi si devono inserire devono essere un ingranaggio del mio organigramma della mia gestione non devono essere un qualcosa che divide ma casomai comporta una necessità di aggregazione è un'aggregazione che deve essere verso il centro e non verso la periferia conferisco col comandante Girosi argomento battaglia navale nella notte scorsa schema dei rapporti con il maresciallo Kessering incarico il comandante Girosi di fare uno studio di quello che ha fatto l'aeronautica per prevenire le offese per assecondare l'azione della marina durante l'azione di questa notte telefono il generale Rossi dello stato maggiore esercito le divisioni che hanno fatto la marcia di resistenza avevano per ogni uomo un carico di 22 kg pensate un po' 10 novembre ricevo il colonnello a me capo del sim servizio informazioni militare argomento situazioni in bosnia orientale filoservismo ed azione dei tedeschi ricevo il generale Forrintelen in merito allo schema di collaborazioni con il CAT Forrintelen dice che il comando Kessering aveva lo scopo di costituire un comando superiore a quello del CAT dico che bisogna conciliare questa idea con la nostra situazione e con le nostre difficoltà concordo che occorre un comando unitario ma faccio presente che questo è il comando supremo e che questo è molto vicino al comando Kessering col quale può sempre prendere i contatti del caso quindi Cavallero è molto fermo nella sua prerogativa nella pretesa della sua prerogativa e di ribadire come egli sia l'unico responsabile l'unico capo militare in Italia e quindi anche nelle relazioni con i tedeschi quindi proprio a definire a mettere i puntini su lei e mettere proprio un recinto intorno a tutte le possibili interferenze autonomie intraprendenze delle altre componenti militari che si fanno a definire intorno a lui mi sembra che tanta roba tanta roba che in qualche modo ci va sempre più a precisare una condizione di profondo equilibrio instabile era un equilibrio instabile che poi troveremo ahimè così rompersi con una sorta di di elemento di elemento un cristallo un cristallo che si frantuma nel 43 perché? perché è stato sollecitato troppe volte da troppe elementi esterni detto questo come al solito io vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao